Salve a tutti, oggi vorrei condividere con voi un'esperienza che sto facendo da un po' di tempo. Ho terminato il mio Gregory e sto usando la ciotola di montaggio del Gregory appunto in ceramica per montare il sapore. Io ho circa, forse avrò più di 20 ciotole montaggio, trasciate e altre cose. Poi è un po' di tempo che sto usando la ciotola in pratica finita del Gregory, che poi è anche quella del casmire. Vi faccio vedere come monta bene, come non c'è tutta questa necessità di avere delle righe o le bolle all'interno. Lo guardiamo insieme, lo guardiamo insieme. Piccola quantità di sapore, ho preso lo zero, lo lasciamo ben bene qui sul fondo, pennello sintetico ben asciugato. Guardate che roba. Io per una questione proprio di comodità sto usando questa ciotola perché è anche abbastanza bassa, per cui è comoda da ottenere, da avere, da utilizzare sul bagno. Non so se si riesce a vedere tutto il sapone che ancora resta. A questo punto si dovrebbe andare in viso. Altra comodità, quando lascio del residuo di sapone, chiaramente questo poi va in viso, ma il sapone che resta sulla ciotola io lo utilizzo il giorno dopo. Chiudetola. Boh, spero vi sia piaciuto. Ciao.